Mirko D'Aravenna Non si sente Mirko D'Aravenna Adesso chiudo, adesso chiudo Mirko D'Aravenna Volevo intervenire a proposito del Movimento 5 Stelle Lei fino a poco tempo fa ha trattato a pesci in faccia tutto quello che diceva Grillo Questo lo dice lei No, 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 me lo ricordo bene Addirittura invitò Gaspari che tirò fuori il discorso del suo incidente Insomma, tutto quello che era possibile fare Ma che c'è? L'ha invitato Gaspari che ha detto questa cosa Ma che ha detto? Ma questo lo dice lei Perché lei pensa Mirko, no, ma che vi ricordate chi? Ma che c'avete? Vi ricordate chi? Ma che è la Gestapo? Adesso che il Movimento 5 Stelle prende punti Cominciate tutti Ma lei chi è? La Gestapo? Chi è? Ma si vede in televisione perché ti veri Il giornalista di domenica comincia a dare ragione a Grillo Mentano ultimamente e fargli e strizzare l'occhio in a Grillo tantissimi altri Cominciano a capire che... Ma lei dovrebbe essere contento Mirko No, non sono contento Allora peggio per lei Resti minoranza Resti minoranza Voi dovete fare una brutta fine Avete portato voi servite potere Sì Perché siete stati per anni Sì Servite Coloro che hanno disinformato questo paese Sì I responsabili insieme alla classe politica di questo sfaccello Dobbiamo fare una brutta fine in che senso? Scusi? Ma sì Che dovete pagare In che modo? In che modo dobbiamo pagare? Anche economicamente Dando soldi indietro a questo paese No, per esempio Io secondo lei Che sono servo del potere Come devo pagare? Con soldi Con soldi Benissimo E poi oltre che con soldi Alle contribuenti Sì Non avete mai parlato Sì Delle leggi Che sono state Dei referendum Che sono stati Va bene In un cassetto Benissimo Mirko Come dobbiamo pagare? Non ho capito Come dobbiamo pagare? Caro Mirko Allora ci saranno Sì Dei strumenti Che verranno messi in atto Sì Quando il Movimento 5 Stelle Sarà in grado Di poter organizzarsi Visto che il motivo Benissimo Che strumenti? Che strumenti? I patiboli Che cosa? Strumenti anche di natura giudiziaria Sì Verrà fatta una legge ad hoc Contro Perché i politici Non se ne possono andare via Benissimo Ma che strumenti? I tribunali I tribunali del popolo Che cosa? Io non sono un esperto Della magistratura E allora stia zitto Allora stia zitto Allora stia zitto Pagare in che modo? Pagare in che modo? In che modo dovremmo pagare? Vede perché non devono andare In Movimento 5 Stelle Ma in che modo dovremmo pagare? Perché andare in televisione O da voi È come andare In una commissione d'esame Dove noi Ma se lei parla E non sa quello che dice Ma se lei parla Ma se lei parla Ma lei parla E non sa quello che dice Lei parla Anche la persona più preparata E non sa quello che dice Potrebbe essere bocciata Mi fa finire di parlare Ma io faccio quello Ma io faccio quello che voglio Non se ne può stare mai zitto E farmi finire di parlare Voi non potete dire Che a torto quando dice Non devono andare in televisione Certo che non ci devono andare Perché come andare in una commissione d'esame Ma guardi che l'ho detto anch'io Ti faccia finire L'ho detto anch'io Stia calmo Ti faccia finire Ma è l'evolante Stia calmo Stia tranquillo Stia tranquillo Andare in televisione No non siamo tranquilli Stia calmo Non ci arriva la fine del mese qui Sì Io ho dei bambini Da mandare a scuola Da poter crescere È un po' nervoso Non ci sono delle strutture idonee Abbiamo delle persone Che sono distrutte È un po' nervosetto Mi fa finire di parlare Lei pensa Lei ha tutti questi problemi Ma è democratico Sì o no Ma perché ha raccontato Per me Tutte queste puttate In televisione Alla radio Non sono democratico E poi viene a dire Che è fantastico L'intervento di Sgarbi Stia tranquillo È una tristezza disubana Lei ha qualche problemino Però non è tranquillo Ma certo Che sono devastato mentalmente Da questo governo Ah beh Su questo guardi Si era capito ampiamente Ma lei ride Sì Ma lei va avanti Con 200 mila euro all'anno Forse anche di più Ma io ando avanti Con 10-12 mila euro all'anno Forse anche di più Ecco Qual è il problema Con 12 mila euro Qual è il suo problema E tutti i cittadini Non devono sapere questo Che voi Avete tutti questi soldi Perché siete stati pagati Da noi Perché lei si lamenta Ma lei non mi ha mai dato Lei non mi ha mai dato un euro Non ti deve essere No 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 Lei ho dato i soldi Perché i soldi Per fortuna no Per fortuna no Che vi danno a voi L'abbiamo finanziato Sono stati finanziati dai cittadini Guardi Non è vero? Non è vero? Si fermi un attimo Non è vero? Non è vero? Non è vero? Se la pagasi o no? Ma quando mai? Sta dicendo delle cose Ma chi è che paga a lei? Sta dicendo delle cose Ma certo Ma allora Sono 24 ore che lo paga Cittadini o no? No No? No Vabbè Allora arrivederlo No bravo Arrivederlo Va bene Mirko Daravenna È quel signore di prima Quel Movimento 5 Stelle Militante Lei è iscritto al Movimento Mirko? Si Allora innanzitutto Io non sono iscritto Perché Non voglio far Non voglio Portare Diciamo così Sì Mettere in gioco Il Movimento 5 Stelle Ti credo Pure quelli Soffenderebbero No 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 Perché è giusto Quando uno va a dare un esame Sì E la Commissione sa a priori Che lo deve bocciare L'esaminato Sì 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 Che anche la persona Più preparata del mondo Sì Anche Einstein Anche la persona Ma di chi sta parlando Quali sono i soggetti Di questo Il motivo Per il quale Grillo non vuole Ma guardi Io sono d'accordo con Grillo In questo In questo Sono d'accordo Potete In qualsiasi modo Mettere in discussione Anche la persona Più preparata Scusi Mirko No Mirko Scusi un attimo Abbia pazienza Questo deve essere chiaro A tutti i telespettatori A tutti i radioascoltatori Scusi Mirko Vabbè Lei sta delirando Un attimo solo Un attimo loro Lei ha detto Una cosa molto semplice Primo che Grillo Fa bene Lo penso anch'io A non mandare i suoi In talk show Perché vogliono Soltanto Va bene D'accordo Lasci per Magari No è quello il motivo Lo deve dire anche lei Ma perché mi vuole Mi vuole imporre Ma perché mi vuole imporre Quello che devo dire Scusi Perché è questa La certezza che sa E lei Continua a Mettere le persone italiane A dare agli italiani Una informazione di storia Ma perché Non ho capito L'unica informazione vera È quella che dice lei Ma certo Cosa c'è Dobbiamo fare a dimostrare Tutte le teorie Più strane del mondo Qui Va bene Allora per assurdo Mirko Lei ha detto che dobbiamo pagare Come dobbiamo pagare Come dobbiamo pagare La mia teoria È che anche il più grande Come dobbiamo pagare Noè lei ha detto Che dobbiamo pagare In che modo Noi servi Come dobbiamo pagare Noi servi Me lo dica Luca Si deve ricordare Che Bersani Ha votato in Parlamento La legge criminale Della Fornero Il caro Bersani Perché l'hanno votata tutti Perché non le dice queste cose Perché non gliel'ha detto lei Ma che c'entra Ha detto che era criminale Non l'ha detto Non l'ha detto Che era criminale Ma Bersani Dov'era votata La sinistra Non ha votato Ma è lei che la definisce criminale La legge Della Fornero È lei che la definisce criminale Lui non la definisce criminale Ma ti l'ha approvata La legge L'ha approvata anche Bersani Ma ho capito Ma Bersani Non la considera criminale Non la considera criminale Quella legge Comunque Su una cosa Lei ha ragione Su una cosa Lei ha ragione Mirko Su una cosa Lei ha ragione Che Avendo Avendo anche il Partito Democratico Ha approvato tutte le leggi Di questo governo Adesso non si può lamentare di Monti Su questo non c'è dubbio Su questo ha ragione lei Io non mi posso No il Partito Democratico Dico Mirko Il Partito Democratico Adesso si lamenta di Monti E dice che ci vuole lo sviluppo Ci vogliono altre cose Quando ha approvato Allora io le posso dire una cosa Visto che noi siamo il movimento Di persone banali Come dice lui Se va su Grillo Dura una settimana L'Italia Ha Il 70-80% Delle risorse Culturali Dell'Europa Sì Il 40% Di quelle O più Il più bel paese Il turismo Deve essere il core business Dell'Italia Io ho studiato economia Ha detto una cosa banale Su Grazie Va bene Grazie Mirko Luciano della provincia di Arezzo Mi liquida Bravo Ma non la sto liquidando L'ho tenuta 20 minuti Al telefono la sto liquidando Che dice Mirko Impazzito Luciano provincia di Arezzo Su